Per tantissimi motivi, di gran lunga è il migliore in campo. Sì, sì, sono contento per la prestazione, ma soprattutto per la vittoria. Ci voleva questa vittoria e dobbiamo fare queste due partite, come ha detto il presidente alla grande. Chiaramente tu sei un fedelissimo di Auteri per tanti motivi, no? Prima partita senza Auteri, il miglior d'Ursi stagionale. È un caso? No, no, stavo bene. Anche come si vede, le ultime due o tre partite sto in gamba. Si vede. Speriamo che continuo così. Oggi che cosa è cambiato? Avevi tanto spazio su quella corsia. Forse ti sei accentrato un po' meno rispetto a prima, andavi proprio a correre sulla fascia. Sì, sì, ho fatto quello che mi diceva il mister. Cosa ti ha chiesto? No, gioca, fai quello come sai giocare. Gioca, divertiti e non pensare a nulla. Sei divertito? Sì, mi sono divertito, ma sono contento per la vittoria. Soprattutto ho notato una cosa, e ti salutiamo Eugenio, nel finale Frascatore è scivolato. Tu sei andato a fare il terzino. Questo è importante dopo 90 minuti. Sì, ho visto che l'ha superato, mi trovavo lì e ho provato a fare la corsa, mi è riuscita bene. Sono contento, però va bene così. Dobbiamo continuare così e fare più punti possibili queste due partite.